Buongiorno, siamo in via Argine Polcevera, in un appartamento completamente ristrutturato. Adesso lo andremo a vedere dove oggettivamente non c'è veramente nulla da fare. Dall'impianto elettrico a quelle che sono le porte, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti idraulici. Entriamo in un ingresso decisamente ampio. Ci portiamo nella prima stanza. Come vedete i muri imbiancati, gli infissi in PVC, presa della televisione. L'esposizione è ovest, andiamo verso la colina di Coronata. La porta è blindata. Qui siamo nuovamente nell'ingresso. Andiamo verso le altre stanze. Qui abbiamo un'altra, la possiamo identificare come camera da letto. Quindi le camere da letto ne abbiamo già viste due. L'esposizione qui è dall'altra parte, verso Rivarolo. Quindi è un'esposizione di questo appartamento che possiamo definire correttamente est-ovest. Molto luminoso, molto soleggiato. La cucina rimane a vista, per certi versi. Una cucina che si presenta già attrezzata. Una cucina che peraltro ha anche un piccolo foggiorino, che comunque è utile per poter stendere sicuramente. Quindi abbiamo visto l'ingresso, abbiamo visto le due camere, la cucina. Adesso andiamo a vedere il bagno. Anche questo è completamente rifatto. Con una bella doccia ampia, finestrato. Riscaldamento, il calorifero dell'ultima generazione, dove faccio asciugare anche gli asciugamani. Ed ecco che mi riporto nella zona di ingresso dove sono entrato. Quindi ricapitolando, grande ingresso, due camere da letto, cucina abitabile, bagno. Qui finisce il filmato.